Lunga ben oltre 4 metri e mezzo, la nuova H6 di Great Wall abbina un bagagliaio di oltre 800 litri ad un abitacolo spazioso e razionale. Auto importante per ingombri e massa, con questo nuovo modello il costruttore cinese vuole penetrare nel segmento dei SUV medio-grandi nei mercati europei. In particolare per quello italiano, gli oltre 70 concessionari puntano a distribuirne alcune centinaia già nel 2014, anche grazie alla fabbrica bulgara, che è in grado di approvvigionare le reti in tempi brevi. Al volante, il 2 litri turbodiesel Euro 5 ha potenza sufficiente a patto di non pretendere prestazioni da sportiva. I suoi 143 cavalli sono abbinati ad un cambio manuale a 6 marce, l'automatico non è previsto in tempi brevi e forse il solo appunto da muovere è una certa rombosità che proviene dal vano bagagli, mentre nel complesso si guida piacevolmente, apprezzandone anzi la risposta sincera in autostrada come nei tracciati misti. In una breve presa di contatto, insomma, l'impressione generale è stata piuttosto positiva, con la sola riserva del prezzo, che per la versione a quattro ruote motrici arriva vicina ai 28.000 euro.